Dopo la sosta di un anno per motivi legati alla pandemia, eccoci di nuovo qui a presentare la quarta edizione di Macchie Inchiostri, un festival dedicato al giornalismo d'inchiesta e di inviati di guerra. Non sono io a dirlo, ma sono i giornalisti presenti, invitati qui nel programma, che mi dicono che un festival interamente dedicato al giornalismo d'inchiesta, inviati di guerra, quindi giornalisti d'assalto non ne hanno visti altri, forse l'unico in Italia e quindi per me, in qualità di direttore artistico, è anche una punta di orgoglio. E come si svilupperà? Attraverso quante date e quali date? Allora, il festival in totale prevede otto date. Inizia sabato 18 dicembre al Museo delle Scienze del Bali. Sono particolarmente felice che venga fatta cogliere il Metauro, anche perché, a parte la vicinanza e la possibilità di partecipare in luoghi fantastici, che sono dalla Villa del Bali a Montemaggiore, eccetera, sono delle tematiche che mi riportano indietro di molti anni nel tempo. Per esempio, Sarajevo, Alex Langer, che è venuto molte volte a Isola del Piano, che era l'ambasciatore per l'Unione Europea a Sarajevo, quanto a Sarajevo era sotto assedio. Io ritengo che questa rassegna che noi portiamo in atto con questa quarta edizione, dia proprio valore ai nostri territori, mettendo in luce, dando visibilità, accendendo i riflettori su alcuni argomenti che sicuramente portano in luce quella che è la verità di alcune informazioni. Verità magari scomode, difficili, non solo da raccontare, perché non sono presenti nei mari, nei canali di informazione più diffusi, ma sono proprio difficili da cogliere, da andare a intercettare. E solo grazie alla determinazione, alla capabilità e anche al coraggio di questi giornalisti, coraggio perché spesso per andare sull'informazione mettono a repentaglio proprio la propria vita, proprio per essere testimoni visivi, testimoni oculari sulla propria pelle di quelle che sono le notizie che ci danno poi la possibilità a noi di ascoltare e di poter ricepire. In questi giorni, sui giornali, si legge anche oggi stesso, si legge di quanto bisogno, di quante necessità ci sia di cultura per la crescita dei nostri territori, per valorizzare i nostri territori.